Ciao a tutti, oggi sono qui per farvi questo tutorial che ho pensato molto adatto per un colloquio di lavoro anche perché ne sto facendo veramente tantissimi e purtroppo non stanno andando bene però non ci perdiamo d'animo e cerchiamo di mettercela tutta e siccome ho pensato che comunque non è facile trovare un trucco adatto per un colloquio di lavoro perché certe volte, ecco è arrivato il mio cane certe volte potreste sembrare un po' troppo serie certe volte potreste sembrare un po' troppo poco serie anche se non si dice troppo poco serie forse comunque c'è il mio cucciolotto qua che vuole essere ripreso anche lui Aci fatti vedere ecco non so se l'avete visto comunque quindi ho pensato che questo tutorial fosse adattissimo per un colloquio di lavoro è molto semplice e naturale però che vi renderà veramente carine e importanti un bacio a tutti, ciao! allora applico come base il mio concealer che andrò a sfumare con il dito molto bene con la matita nera andrò a contornare tutto l'occhio se sopra che sotto sotto mi fermo solo nell'ultimo quarto in modo che poi posso sfumare bene con il pennello con un pennello piccolo ma non da eyeliner va bene anche un pennello d'ombretto come questo sfumo la matita e faccio in modo da ricongiungere le due punte in questa parte qui adesso vado a fissare con un ombretto marrone scuro solo sulla matita adesso con un pennello normale a lingua di gatto metterò dell'ombretto color carne diciamo su tutto l'occhio anche andando sopra la matita nera adesso con un pennello sempre a lingua di gatto ma se ce l'avete a punta rotonda a penna è meglio prenderò un ombretto color pesca e lo metterò nella piega dell'occhio socchiudo gli occhi in modo da individuare bene la piega traccio il contorno e sfumo se va un po' di sotto se va un po' di sotto non vi preoccupate perché si può aggiustare mi allungo bene anche nell'angolo interno faccio un po' di pieghetta qui e vado a prenderne un altro più scuro sempre un pesca e ripasso sopra alla stessa ombreggiatura che ho appena creato adesso potreste anche fermarvi a questo punto ma a me non piace proprio chiarissimo il trucco anche se deve essere un trucco naturale quindi io andrò a prenderne un altro ancora più scuro sempre con lo stesso pennello e andrò a tocchettare proprio dentro la piega a tocchi piccoli e ora sfumo sfumo anche un po' con il dito in modo da non dare una linea netta e il movimento sarà circolare verso l'angolo esterno dell'occhio e andrà a seguire il nostro disegno delle sopracciglia adesso metterò il mascara sempre il colosal della Maybelline New York ok 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 e niente il trucco è finito spero che vi piaccia un bacio ciao 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 ciao